Il Master mi ha lasciato davvero tantissime cose, mi ha dato la possibilità di mettermi in gioco, di conoscere tantissimi docenti e soprattutto professionisti del settore del mondo delle fiere, dei congressi e degli eventi, mi ha dato la possibilità anche di lavorare in gruppo, portando avanti dei progetti e degli obiettivi comuni e poi infine mi ha dato la possibilità di accedere nel mondo del lavoro, soprattutto nel settore che desideravo. Le emozioni che ho provato per l'assegnazione della borsa di studio sono state stupore e contentezza e assolutamente non me l'aspettavo, sono molto emozionata. Allora, al momento gestisco i servizi DMC per una società del gruppo Fiera Milano che è appunto Mico DMC, ho iniziato il mio stage a maggio, subito dopo la fine del mio percorso in Progea e attualmente sono stata assunta da poco, sono molto contenta di questo e spero di portare a termine tutti i miei obiettivi sia personali che aziendali.